buongiorno a tutti ragazzi bentornati sul mio canale bene andiamo a vedere quello che è successo ieri nella partita catanzaro pisa al ceravolo è successo che il pisa perso per due reti a zero abbiamo fatto il terzo tempo adesso andiamo a valutare quello che è successo nel campo di gioco quello che è successo è questo un primo tempo dove il pisa è stato semplicemente io direi imbarazzante soprattutto sul lato sinistro quindi beruato e malacare sicuramente non hanno non hanno dato quello che dovevano da gli occhi non pervenuto quindi sostanzialmente fondamentalmente noi siamo andati in debacle no bene cos'è successo è successo questo successo che appunto nel primo tempo siamo stati semplicemente inconcludenti inconcludenti abbiamo ottenuto il possesso palla ma possesso palla direi sterile perché fondamentalmente si 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 cercava di insomma si passava la palla indietro senza mai affondare verticalizzare niente bene nella nella ripresa è cambiato qualcosa quando il predestinato si è diciamo così svegliato e ha sostituito gli elementi che doveva che dovevano essere sostituiti secondo me non dovevano scendere neanche in campo quindi quando un giocatore non ha più voglia vuole cambiare squadra io credo che sia opportuno non farlo più giocare questo è un mio pensiero personale detto questo poi siamo andati sotto che catanzale ha preso piede nei contropiedi era diciamo così micidiale abbiamo preso gol e quindi poi vabbè è l'autorete ma io direi che le colpe sono sono limitate perché alla fine ci può stare è il fatto è che te non finalizzi che a noi non si riesce a finalizzare quindi di conseguenza il minimo errore che te fai dietro ti seccano e sei condizionato perché non riesce a segnare che sei nell'incapacità più totale di segnare te non riesce a segnare le partite dicono lo dicono lo dicono da sole i numeri lo dicono da soli non c'è bisogno di essere diciamo così super esperti di di chissà cosa per capire che noi siamo incapaci siamo nell'incapacità di segnare detto questo andiamo a vedere nicolas sei e mezzo chiamato in causa molte volte bravo perché se no poteva finire anche diversamente e steves steves bene sei e mezzo spinge molto sulla destra mettendo in mostra le doti atletiche guadagnando spesso il fondo bene in fase di impostazione quando si sposta come mezzano io direi bravo hermans sei e mezzo sempre attento il centrale islandese bravo nonostante la prima volta diciamo che non forza la giocata però è sempre ben posizionato e sicuro di sì e di quello che sta facendo canestrelli sei e mezzo bravo bene comandante di difesa ottimo e attento sulle palle e in impostazione io vi ricordo stato forse un pochettino ecco per dire un po disattento sul gol ma alla fine è stato veramente veramente bravo vi ricordo che l'unico tiro diciamo degno di nota l'ha fatto proprio lui beruato quattro e mezzo svogliato non ha voglia perde palla in continuazione non conclude niente quindi era da togliere subito dopo cinque dieci minuti quindi quattro e mezzo poi dopo entrato barbieri barbieri un bel sei perché come volontà come voglia di fare l'ha detta tutta e spinge molto insieme ad arena piccinini piccino oggi non mi è piaciuto cinque e mezzo marin cinque e mezzo sempre ben posizionato piccinini nel primo tempo riesce a far girare la palla con molta velocità nella ripresa trova traffico non si inserisce e rallenta tutte le giocate marin tanto dinamismo ma oggi frenetico sbaglia molto quindi niente al di là della dell'autorete ma quello ripeto può capitare tramoni sei e mezzo bravo al piglio giusto prende la palla va avanti poi non si riesce a sfruttare il contropiede noi perché non c'è nessuno davanti giocando con una punta come gli ozzi prima e moreo dopo non si riesce a fare niente perché moreo fa difensore la scheggia un po a zitta quindi facendo la scheggia un po a zitta avete visto tante volte tramoni andava poi si guardava in giro non trovava nessun compagno si fermava e palla dietro per ricreare quindi azioni macchinose gioco sterile quindi sono detto comunque tramoni voto mi mio voto è sei e mezzo valoti sei nel primo tempo forse è l'unico che cerca di fare qualcosa in avanti prova ad accentrarsi ed incidere ma con gli ozzi non riesci a fare proprio un bel niente di niente dal 62esimo arena a re bravo sei e mezzo perché entra molto bene testa a campo e la freschezza ha creato problemi io direi sulla fascia destra la car 4 e mezzo 4 e mezzo perché non azzecca un passaggio neanche con la mano quindi la car 4 e mezzo cosa dire più basta non dico altro perché giocatore che si è preso per spaccare le reti ma non l'ho detto io l'hanno detto altri ma alla fine ne spacca le reti e neanche riesce ad azzeccare un passaggio dal 74esimo vignato senza voto perché ha giocato poco quindi non si riesce a dare una valutazione al vignato gli ozzi 5 ma proprio proprio poco coinvolto dai compagni è vero a volte non arrivavano palle ma quelle poche che sono arrivate insomma non ha non ha creato problemi e difficoltà alla difesa avversario moremo moremo 5 ha proprio proprio due volte sbuccia la palla davanti alla porta gol diciamo così rigori in movimento quindi una volta la sbuccia una parte una volta la sbuccia dall'altra quindi uno sbucciato renato fa un gol 2 a stagione ma non fa altro la scheggia impazzita e andiamo avanti così alberto aquilani non pervenuto questo è il mio giudizio bene giudizio con voto non pervenuto allora io direi che io la chiudo qua la chiudo qua se vi è piaciuto questo questo video pollici su mi raccomando iscrivetevi al canale e fate crescere il canale condividete i video sui social io non aggiungo altro perché abbiamo fatto al terzo tempo poi farò questo è solo il commento alla partita non voglio aggiungere nient'altro io dico solo una cosa spero di salvarmi e rimanere in serie b il prisa resta e tutto il resto passa alla prossima